Non so se voi avete, io vengo da Marsiglia, diciamo, forse qua siete più evoluti, però a me mi hanno insegnato questo. Per fortuna con i giochi cerchiamo di cambiare, di mettere un po' di gioco e invertiamo. Provate con l'altra mano, invertite e accelerate. Se volgo, c'è un velo, cominciamo, non capirci niente, vi state demecanizzando. Avete sbagliato, sì o no? Sì, sì, sì. Chi non ha sbagliato continua e accelera. Bene, ok. E poi invertiamo, giriamo testa, battiamo pancia, e così capiamo un po', insomma, e poi battiamo testa, giriamo pancia, e acceleriamo, invertiamo, acceleriamo, sempre batto testa, giro pancia, eccetera, eccetera, perfetto. Dare l'indice alla persona accanto e lo devo mettere sul palmo, giusto? E lui mette l'indice sul mio palmo e io continuerò fino a 3 e a 3 voi dovrete togliere l'indice e cercare di prendere senza un perglielo, invece, l'indice del vostro vicino. Fai attenzione, ti prego. Sulla psicologia di questo esercizio lascio l'immaginazione. Ci siamo? Uno, due, tre! E chi è rimasto senza niente? Io sono bravissima a scappare. Riproviamo, ovviamente. Uno, due, tre! E rimettiamo l'ultima prova con l'altra mano. C'è una persona, Oliver, lui dice il suo nome, io divento Gabriele, lui diventa? Io, quindi, come Gabriele, vado qua e dico Gabriele, io divento Carmelo e lui diventa Gabriele. Se avete sbagliato, sempre complimenti, è quello che vogliamo. Gabriele, Carmelo, Carmelo! Carmelo? Con cui? Armelo? Scott? Non la parola. Grazie. It's Smart. Sinistra Sinistra Avanti Indietro Sinistra Sinistra Ottimo Cominciate a sbagliare Ma insomma Ma insomma Ma insomma Ma insomma Ma insomma Ma insomma Grazie Grazie Eccolo Vai Noi facciamo la barca Quando ci siamo Ci siamo Giovanna e tu Allora Chi ha gli aeri può Come ci ha Vedersi volano Volano un pochino Chi più chi meno E va benissimo Non siamo qua per fare Nello spettacolare Vai Ce l'abbiamo fatta Come va Ora Dicheglielo che avete fatto la barca Bravo Oliver Io Io sono l'attore Vengo per il provino E praticamente il copione mio è questo Lo faremo tutti e tutti in contemporanea Quindi non ci sarà l'attenzione su nessuno A parte il vostro direttore artistico che vi sorveglierà o correggerà Allora Il copione è questo Io devo dire Odei La città di Troia È distrutta Tre cose Proviamo tutti insieme Odei La città di Troia È distrutta Ottimo Solo che il mio direttore artistico non sarà mai contento E me lo farà rifare e rifare e rifare Va bene? C'è una persona che non sta data Questo però Ci sono tanti direttori artistici fra di noi Non cominciamo a dare i nomi e i cognomi Quello che ci interessa sono le dinamiche Vai 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 È pratica la cosa È pratica È pratica È pratica Odei Odei La città di Troia È distrutta 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 La città di Troia È distrutta La città di Troia È distrutta Odei Odei Odei